Quelle che vedete sono le condizioni dell'unica strada di accesso alla casa di Michele, struttura che si trova nell'area dell'ex ospedale psichiatrico di Colle Maggio. Se avete fegato, portate qui tra le pozzanghere dei nostri figli il prossimo ministro. Così Dario Verzulli, presidente di Autismo Abruzzo Ollus, lancia la provocazione. Perché la casa di Michele ogni giorno accoglie da lunedì al venerdì oltre 50 utenti da tutta la provincia. Ragazzi operatori che ogni giorno sono costretti a questo percorso ad ostacoli vergognoso. Una struttura invidiata, unica in Italia, che è l'obiettivo di facilitare lo sviluppo psicologico e psicosociale degli utenti, migliorarne le abilità adattive e comunicativo-razionali, ma anche migliorare la qualità di vita di utenti e familiari e non ultimo lottare contro lo stigma e l'emarginazione. Obiettivi che ogni giorno uno staff di oltre 24 professionisti della cooperativa sociale Lavoriamo Insieme, strutture riabilitative e psichiatriche, porta avanti ormai dal 2014. Verzulli spiega che solo grazie alle loro delizioni ogni giorno ragazzi e genitori riescono a superare le pozzanghe dell'indifferenza che volvono in polvere d'abbandono estivo. Una situazione vergognosa, quella denunciata da Verzulli, mentre sottolinea dirigenti e funzionali della ASL lavorano alla ristrutturazione di edifici ed ex padiglioni per 4 milioni di euro e a progetti spaziali del PNRR. La triste realtà, però, è sotto gli occhi di tutti, quella di ragazzi costretti ogni giorno a vedere buche e una situazione di abbandono tutti intorno. Questo stato, questa condizione purtroppo permane da tempo, cioè questa struttura è nata sull'onda dell'emergenza sismica in Eramo e ne siamo oggi ancora molto felici e soddisfatti. Il problema è vedere quanto è importante questo servizio per noi, per le nostre famiglie e quanto è di pregio per la ASL aquilana, ma per l'intero sistema sanitario regionale dedicato all'autismo, ma vediamo tutto il contesto, è diventato ormai assolutamente inaccettabile. Le segnalazioni nostre sono state tantissime, puntuali, sistematiche, a vari livelli e non c'è nessun riscontro. L'attuale organizzazione dell'ASL aquilana è inadeguata e noi non vogliamo condizionare i progetti faraonici, ma rivendichiamo semplicemente il diritto di avere dignità, pulizia, ordine, qualcosa che è decenza. Perché vorrei vedere se la prossima autorità, il prossimo personaggio politico importante o attore venisse quasi a sporcarsi le scarpe nelle pozzanghere. È qualcosa di inaccettabile, è ora di cambiare. Quindi le risorse ci sono perché ogni giorno assistiamo ad annunci, a lanci importanti, benvenga che questo accada, però cerchiamo di sistemare anche quello che è banale, quello che è semplice, perché significa davvero dimostrare attenzione per i più deboli, per le persone che hanno una difficoltà.